Questa esperienza è stata notevole, anzi dire notevole è troppo poco e dire troppo poco è poco. E che dobbiamo fare? Quando uno affascina, affascino. È stato bello. È stato bello? Ho curato poco. Ho sentito quando ha parlato, mi è sembrato proprio Frassica. Quel signore là che mi ha insegnato tantissimo della commedia e dello stare anche, come dire, sul palcoscenico della vita, ed è quel signore là che è Nino Frassica. Mai ho avuto tanti complimenti, neanche quella volta che ho fatto il calendario nudo. Comunque, devo dire, il Zucchino, non ci sono dubbi, è uno sciomero. Dice che ha partecipato a ballando, quindi o Solenghi o Lopez. Sicuramente è cantato molto bene, bravo davvero. Potrebbe anche esserci uno showman. Io direi Massimo Lopez. Quei baffetti, se sono una citazione dei baffetti di Nino, sono i suoi. Oppure magari ho sbagliato. Posso aggiungere altro? Frassica. Diciamo, sono intrappolata dentro Nino Frassica, ma lo faccio con piacere, Nino Frassica. Levate la maschera e farla finita. Anche se mi scoprite e dite che sono chi sono veramente io, io no. La maschera non me la do. Ormai mi sono affezionato, ormai resterò così per sempre. Una telefonata ci cambia la vita. Scusate, ho lasciato un messaggio in segreteria. Così è tutto iniziato. Così è tutto iniziato. Così è tutto iniziato. Così è tutto iniziato. Così è tutto iniziato.